Buongiorno a tutti, vediamo come con questo video tutorial inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS personale docente ed educativo prima fascia. Potranno inserirsi in questi elenchi aggiuntivi coloro che per esempio sono presenti già in GPS seconda fascia e hanno conseguito nell'ultimo anno il titolo di specializzazione del sostegno oppure un'abilitazione all'insegnamento per qualche classe di concorso, ma potranno inserirsi anche coloro che non sono inseriti in GPS e però hanno conseguito in quest'ultimo anno la specializzazione sul sostegno e si vogliono inserire negli elenchi aggiuntivi prima fascia proprio per il sostegno. Andiamo a vedere come si compila questa domanda. Scendiamo sulle istanze di istanze online e andiamo a trovare proprio il form elenchi aggiuntivi del datore provinciale di sostenza personale docente ed educativo. Andiamo alla compilazione. Vai alla compilazione, entriamo in una pagina dove ci sono le avvertenze per il trattamento dei dati personali. Facciamo accedi da questa pagina in modo da entrare su una pagina dove si potrebbe scegliere la provincia qualora non si è proprio inseriti GPS e si è conseguito un titolo di specializzazione del sostegno e di abilitazione. Dunque si fa un primo inserimento direttamente negli elenchi aggiuntivi. Oppure se già si è inseriti, come in questo caso, vedete, la domanda che è stata presentata per Reggio Calabria dovrà rimanere Reggio Calabria, la provincia di inserimento in questi elenchi aggiuntivi. Facendo avanti da questa pagina entreremo in una pagina dove ci saranno i dati anagrafici dell'aspirante all'inserimento in questo elenco aggiuntivo. Dalla pagina con i dati anagrafici, facendo ancora avanti, entreremo proprio nel modello di presentazione della domanda. Andando a fare scelta delle gradatorie, delle azioni disponibili, facendo accedi, troveremo la situazione pregressa di inserimento, per esempio in questo caso un tab 4 seconda fascia di A046 e di inserimento in GPS appunto seconda fascia. Se si vuole aggiungere una gradatoria, vedete, facendo aggiungi gradatoria da qui potrete entrare nella selezione del GPS, che sono proprio gli elenchi aggiuntivi di inserimento. Potrete scegliere, vedete qui, per esempio se uno ha conseguito il titolo di sostegno per entrare in prima fascia, basta che clicchi gradatore provinciale di istituto per le supplenze sul posto di sostegno prima fascia tipo di posto ADSS, per esempio, e inserire il titolo di specializzazione sullo specifico grado, per esempio, o le opzioni che vedete le inserite, fate, tipo questo, fate, inserisci, mettete chiaramente la data di conseguimento, l'istituto presso cui è stato conseguito, la votazione ottenuta, eccetera, e i percorsi, il dettaglio del titolo di accesso tramite, per esempio, i percorsi di specializzazione, il cui è l'articolo 3 GDM 249, cioè i tf o analoli i titoli conseguiti all'estero, potete cliccare qui, fate inserisci e il titolo sarà inserito e sarete inseriti in questo elenco aggiuntivo. Speriamo che questo video tutorial sia stato di gradimento e soprattutto utile ai nostri lettori, seguiteci ancora nei nostri social e Facebook, YouTube e sul nostro sito www.techniglasuola.it perché tratteremo ancora temi riguardanti le GPS e l'inserimento negli elenchi aggiuntivi. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.